Buongiorno, Graziano Somaschini della Exevo e Andrea Gottardo sempre di Exevo. Siamo qui per il secondo anno a SIEC, volevamo un po' raccontarvi quello che è la nostra filosofia, non dico di esposizione ma di presenza. Una novità assoluta è l'introduzione di un concetto che è il concetto di acustica passiva che fino ad ora Exevo non aveva mai portato avanti. Con un nuovo marchio che si chiama Vicusti e una nuova, al momento piccola divisione Exevo stiamo lanciando il concetto acustico passivo abbinato all'acustica attiva che noi abbiamo, che poi è elettroacustica, microfoni, Sennheiser, diffusori che è Ray, Fulmosound, Alt, Eclair. Perciò il connubio è perfetto e anche un po' presentato nel convegno, nello speech organizzato all'interno dei convegni di connessione dove abbiamo presentato la Vicusti con i concetti applicati al mercato del sistema integrato. Andrea può dire due parole per quello che è Sennheiser, la novità Sennheiser, sperando che tutto questo possa portare oltre a business per tutti ma anche a soluzioni innovative o comunque utili a dare un contributo positivo a quello che è il mercato dell'integrazione del sistema. Sì, per quanto riguarda Sennheiser presentiamo una nuova linea di microfoni e di compresse wireless, la presentiamo proprio in occasione di questo appuntamento al SIEC, una nuova linea di microfoni che privilegia, enfatizza quello che è il concetto dell'intelligibilità. microfoni che sono sia da incasso che da appoggio ma anche tutta una parte di conferenza wireless che ufficialmente fa il tenuto oggi durante questo evento. Avremo anche un intervento oggi sull'acustica, sull'elettronica applicata ad ambienti difficili come in questo caso la Villa Reale di Monza dove abbiamo installato dei sistemi per le due sale conferenze e che saranno il fiore all'occhiello per la Lombardia in occasione delle Spoli. Grazie a Connessioni, grazie a tutti e a SIEC sperando di un'evoluzione positiva del mercato che in questo momento non è proprio il massimo. Ciao, buon carlupo a tutti!